sempre agli exertis day con salvatore riontino country manager di barco italia corner barco in cui possiamo vedere un po delle soluzioni che barco oggi ha sul mercato europeo e italiano per voi non è una novità essere qui alla sede di exertis pro av già bar per partner da tanti anni ma quest'anno che cosa dopo questa pausa di qualche anno dovuto alla pandemia che cosa portate che cosa promuovete di più tra i sistemi per esempio di collaboration che avete a disposizione nel catalogo allora innanzitutto grazie grazie per la domanda innanzitutto barco ha sempre piacere a partecipare all'exertis days visto appunto questa questa lunga partnership di lungo corso che ci vede appunto insieme sul mercato a proporre soluzioni di collaboration e soprattutto è sempre un enorme piacere dopo un po di tempo incontrare il mercato e quindi tornare a parlare con quelli che oggi sono gli attori principali che insieme a barco d'exertis comunque portano una proposizione il vis a vis esatto molto interessante sul mercato perché comunque ci sono state molte novità anche per quanto riguarda il modo di collaborare insomma un po la pandemia ce l'ha insegnato il modo di lavorare è cambiato si parla sempre più spesso di abri di working e di conseguenza oggi le nostre soluzioni anche se sono le voi volute e sono al passo con tutto quello che poi di fatto il mercato ci chiede le esigenze in termini di esigenze specifiche corretto per esempio ma oggi è la la il modo diciamo il modo di lavorare è cambiato abbiamo cercato di indirizzare di andare a capire quali sono le esigenze del mercato soprattutto attraverso le nostre soluzioni oggi la nostra soluzione clicciare rimane sempre comunque quella più diciamo gradita al mercato per quelle che sono anche le nuove ufficio sicuramente che abbiamo introdotto oggi con le nuove release di software sostanzialmente andiamo a rendere più semplice e più efficace il modo di collaborare delle persone che stanno in ufficio e che stanno da remoto quindi oggi veramente implementare un ufficio e sentire quello che il mercato richiede per noi è fondamentale e cruciale quindi questo è quello che quotidianamente facciamo con i nostri clienti tutti i giorni grazie grazie salvatore un'azienda che quindi si evolve rimane aggiornata sul mercato barco non è quindi soltanto video proiettori professionali al top per quanto riguarda caratteristiche tecniche e qualità ma anche sistemi all'avanguardia per un nuovo modo di collaborare all'interno delle aziende quindi in bocca al lupo per queste tre giornate qui a faenza grazie anche a barco per aver portato le proprie soluzioni qui a esposizione noi proseguiamo il nostro percorso grazie grazie grazie